Buongiorno e bentrovati a questo nostro nuovo appuntamento di mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa con la quale andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani regionali e poi le prime pagine dei quotidiani nazionali e nella seconda parte andiamo a leggere le pagine interne dei quotidiani regionali. Perciò vogliamo subito iniziare con la prima pagina del quotidiano Il Centro di Pescara con il titolo di apertura mare sporco di Vincenzo si difende. Pescara inchiesta sul depuratore, interrogato dal PM l'imprenditore indagato. L'articolo di spalla è a 24 e a 25 fondi masterplan a rischio, ultimatum di lolli, bloccate lo scippo. Pescara, addio a Faieta, 69 anni, pasticcere dei colli. Domani l'evento, Beato Nunzio, l'Abruzzo aspetta il suo quinto santo. Nella foto di copertina vediamo Piloni, redazione, io il Pescara e la vetta. Sempre nel taglio medio, compie 70 anni, l'ape Piaggio con origini tutte abruzzesi. Allarme acido, palazzo evacuato, forte odore e paura in via San Francesco, anziana in ospedale. Vogliamo adesso vedere, sempre nel ticolo di spalla, Montesilvano, mancano le centraline, smog senza controllo. Vogliamo adesso passare alla prima pagina del quotidiano Sempre Il Centro, questa volta della provincia di Teramo. Articolo di apertura, emergenze, 11 milioni non pagati. Lance Teramo, senza i soldi per sisma e maltempo, molte aziende falliranno. Nel taglio alto si parla dell'ergastolo confermato a Bossetti, Iara assassinata da Bossetti, confermato il carcere a vita. Nel taglio medio, vediamo la foto di copertina, condurrà un programma su Cibo e Social, Giorgia Di Sabatino sul set della trasmissione, sbarca sulla set. Vediamo gli articoli di spalla, Giulianova, Paese, vigili scatenati, raffica di multe, in centro. L'azienda di Roseto, Salpa, passa l'accordo con il 92% dei voti. Nel taglio basso, rischia di morire, salvata in strada, Torricella, d'ortoressa, interviene su un'anziana che si accascia al suolo. Passiamo adesso alla prima pagina, questa volta del centro della provincia di Chieti, anche della zona di Lanciano e Vasto. Titolo di apertura, trovato morto nella stanza da letto, ad Orzogni, è successo, mistero sul decesso di un operaio di 41 anni. La procura ordina l'autopsia. Vediamo nell'articolo del centro pagina, con la foto di apertura, a Chieti, scoperta dei ricercatori, dell'adannunzio, ecco le cellule staminali che rigenerano il cuore. L'articolo di spalla, San Salvo, cocaina per i VIP, i nomi negli appunti. Andiamo a vedere sempre nella provincia di Chieti, a Chieti questa volta, municipio si rischia un secondo appalto. E a Lanciano, niente sesso, 96 anni, divorzi a matrimonio mai consumato con una donna di 41 anni più giovane. Vediamo adesso spostarci sulla provincia dell'Aquila, anche della zona di Avezzano e Sulmona. Titolo di apertura, madre cacciata. L'università indaga all'Aquila, diventa un caso l'allontanamento dell'aula di una studentessa con un bimbo. Vediamo qui nella foto di apertura, anche qui, il cinema sbarca a Capestrano, ciacche di Elio Germano nella palestra degli attori. Sempre all'Aquila, Capodanno 2020, nel teatro, riaperto a una promessa. E vogliamo spostarci nella zona di Sulmona. Protesta Sulmona, tribunale, gli avvocati bocciano il ministro. E ad Avezzano, 600 bimbi senza il pediatra. Ad Avezzano, di servizio a raffica dopo il pensionamento di una dottoressa. La prima pagina, questa volta, del messaggero della regione Abruzzo. Il governo ci restituisca i soldi. Autostrade, lavori per la sicurezza, lolli. Possibile non usare le risorse del masterplan. D'Alfonso, non siamo sicuri del ripristino delle somme. Sospiri, pasticcio, PD, Movimento 5 Stelle. La nuova caserma, Pescara, i Vigili del Fuoco, no al trasloco, a Spoltore. Vogliamo spostarci nel taglio medio della prima pagina. A Pescara, il consiglio manca il numero legale. Aria di risulta, il progetto resta incagliato. Nell'articolo di Spalla, zona di Torevecchia, Teatina. Lei mi tradisce, finisce a botte la festa nel locale. Schiaffi, bicchieri spaccati, urla e insulti. Necessario l'intervento degli agenti e del 118. Lanciano, matrimonio truffa. La prima vittima, un anziano. Vogliamo postarci alla prima pagina del quotidiano La città della provincia di Teramo. Ricostruzione, il titolo di apertura. Impresi edili in difficoltà. Allarme del lance sui ritardi nei pagamenti. All'appello mancano 11 milioni sui 20 anticipati. Il caso Masterplan, la mobilitazione degli abruzzesi non si ferma. Vediamo nel taglio medio. Intanto c'è la foto. Serve una scossa per il Teramo Calcio. Il diavolo impegnato nella trasferta a Rimini. Vediamo adesso nell'articolo di Spalla. Il sindaco di Teramo. Acqua sicura, dal perto, accoglie l'appello del procuratore. Sempre Teramo. Botta e risposta sulla stangata della Tari. Diego di Bonaventura. Con me la provincia sarà la casa dei sindaci. A Roseto le provinciali dividono sottanegliani. Nell'articolo del taglio basso chiesti i 13 anni per il pestaggio in spiaggia. Cronaca resta paraplegico a causa della caduta mentre lavora in azienda. vogliamo adesso spostarci scusate alle prime pagine dei quotidiani nazionali vogliamo iniziare con la prima pagina del quotidiano La Repubblica titolo di apertura TAP Movimento 5 Stelle fa riaprire i cantieri all'Italia di Stato entra Ferrovie Di Maio vuole il rilancio della compagnia se TRI è il contrario lasci verso il silenzio assenso su TAP Vediamo adesso vedere nel taglio medio si parla in Germania in Baviera le chiese dei migranti sfidano la CSU non è più un partito cristiano nel taglio basso vediamo il titolo di quello che è successo in questi giorni i cucchi e il carabiniere due vite con l'ombra di Stefano vogliamo adesso spostarci sulla prima pagina del Corriere della Sera titolo di apertura all'Italia pubblica è scontro annuncio di Di Maio TRI la frena dovrei parlarne io ferrovie interessati vediamo il sondaggio nel centro pagina in calo i nostalgici della lira 6 italiani su 10 per l'euro vediamo ci spostiamo nell'articolo di spalla il caso Savona e il giallo dell'aldio dal fondo inglese nel centro pagina l'articolo della sentenza di ieri sera Cassazione la condanna ora è definitiva Bossetti ergastolo in quel DNA la verità su Iara ci spostiamo nel centro pagina nella foto del centro pagina noi la natura il racconto di Ami Vitale premiata la World Press foto dai rinoceronti ai panda così salviamo gli animali li spostiamo nell'articolo di spalla nel taglio medio sempre sul caso Cucchi le rivelazioni sul pestaggio Cucchi altri tre carabinieri sotto inchiesta depistarono vogliamo adesso leggere il titolo di apertura del quotidiano la stampa riforma pensioni il buco raddoppia la manovra dell'Italia attesa lunedì a Bruxelles ultimo appello di FMI BCE Banca Centrale Europea e Unione Europea rispettate le regole i costi nascosti di quota 100 turnovere ridotto e basse retribuzioni peseranno per altri 8 miliardi Tria Di Maio sul tesoro in Italia deve parlare il ministro dell'economia e io non ho parlato bruciati altro articolo i pupazzi di Salvini e Di Maio gli studenti in piazza attaccano il governo nel centro pagina Formula 3 Schumacher Junior verso il titolo del nome del padre articolo di spalla Inail nessun mea culpa sul caso Fuà ha 80 anni le leggi razziali passiamo adesso alla prima pagina del fatto quotidiano articolo di apertura la casta il regolamento del del Senato lo vieta per i rincari incompatibili col CSM casellati il vitalizio extra large da 360 mila euro è fuori legge nel taglio alto che è il fatto quotidiano che sta portando ormai da diversi anni seguendo quest'indagine i carabinieri che non controllarono insabbiarono hanno fatto carriera cucchi catena di comando e di omertà tutti promossi così iniziò la battaglia semisolitaria del fatto andiamo a spostarci nel taglio medio all'Italia alte di tri al piano di maio con ferrovie e cassa depositi e prestiti ecco le app per ricevere il reddito di cittadinanza il reportaggio dal sud America il mio viaggio in Guatemala accanto al guerriero Raul la storia Verona dove nasce la crociata contro le donne Raffaele Cantone nel taglio basso ponte troppe d'ero che legge anticorrotti ok vogliamo adesso passare alla prima pagina del quotidiano il manifesto depistaggio altri carabinieri indacati sempre inchiesta integrativa al processo visse per la morte di Stefano Cucchi vediamo nella foto di copertina comincia la scuola decine di migliaia di studenti sfilano in 50 città italiane contro il governo lega Movimento 5 Stelle la scuola l'università la cultura sono assenti dalla manovra anche quest'anno i 9 miliardi tagliati nel 2008 da Berlusconi non sono stati recuperati le riforme della passata legislatura vanno abolite vediamo nel taglio basso la manovra la troica all'unisono rispettare le regole Di Maio vola all'Italia torna pubblica con FS ferrovie dello Stato Val Susa con danne pesanti a Neotab 30 anni poi vogliamo adesso spostare nella prima pagina del quotidiano il tempo titolo di apertura segreto di Stato l'esclusivo ecco il contratto tra la raggia e il polnitecnico di Torino su Tol di Valle la sindaca però impone la segretazione dei risultati ma che bella trasparenza guai pure per Capannelle il Campidoglio vuole 200 mila euro di affitto nel taglio medio vediamo il governo si riprende all'Italia guarda va bene tutto basta che non ce fanno le divise giallo-verdi articolo di spalla sommari sommari in piazza Salvini e Di Maio appesi e bruciati rito della protesta studentesca Ruggero e le minaccia ai testimoni il PM ammette anche il blef per fargli parlare il verdetto della Cassazione il caso Iara è chiuso Ergastolo a Bossetti vediamo sempre a Roma lo stupro del bohabab che non indigna i radical chic donna sequestrata e violentata da un irregolare del centro accoglienza ma stavolta le femministe tacciano la corte dei conti chiede i danni negli aeroporti militari decollano le mazzette nel taglio basso un articolo di sport tragedia nazionale la B è a un passo dopo la figuraccia mondiale gli azzurri rischiano pure la retrocessione titolo di apertura della prima pagina questa volta del messaggero però nazionale all'Italia di Stato l'ide nel governo Di Maio il tesoro nel capitale col 15% e anche ferrovie dello Stato dentro la società dei treni conferma ma tria frena il vice premier tensione nella maggioranza torna l'ipotesi del rimpasto alto là del fondo monetario e critica da Juncker manovra il nuovo scontro con l'Unione Europea Conte punta sull'appoggio della Merker gli emendamenti legittima difesa così il Movimento 5 Stelle smonta la riforma vediamo nel taglio medio vediamo il matrimonio principesco che c'è stato ieri in Inghilterra e Eugenia di York la nipote della regina Elisabetta la bellezza è anche questo la principessa all'altare con la cicatrice l'articolo del centro pagina di spalla raggi meno auto nel centro di Roma e stop la domenica l'intervista la sindaca e le proposte del messaggero la chiusura della ZTL la zona traffico limitato ci stiamo già lavorando apocalisse traffico il vigile ignoto di piazza Venezia nell'articolo del taglio basso sempre sul caso di Chiara Gambirasio la sentenza della Cassazione il delitto di Chiara all'ultimo atto ergastolo definitivo per Bossetti la prima pagina del quotidiano di Libero milioni di lavoratori in nero riceveranno l'obolo di Stato il festival degli sprechi voluta da Di Maio ci sono dice 3 milioni e 700 mila persone che faticano in maniera regolare poi c'è l'esercito di veri disoccupati altri milioni da dare a tutti 780 euro al mese costa 70 miliardi l'anno dice impossibile il governo scenda dalle nuvele o finirà sottoterra farza Italia il vice premier grillino vuole statalizzarla triano Toninelli blocca le grandi opere in Veneto nella foto del centro pagina il povero Pier Silvio cala le brache Sky si divora Mediasep premium nell'articolo di Spalla croci spezzate per compiacere gli immigrati Bossetti caso Iara la Cassazione conferma la condanna Bossetti all'ergasto lo restano i dubbi vediamo adesso passare alla prima pagina del quotidiano La Verità stupri stupri omicidi nei centri per immigrati vanno chiusi prima che sia troppo tardi dopo le violenze ad agrigente Foggia scoperti un cadavere a Como e soprusi a Roma situazione fuori controllo eppure la Caritas forma una rete di sindaci che seguono il modello illegale di Riace sugli abusi cade pure il successore di McCarrick vediamo nell'articolo di centropagina l'Inps non è pronta a quadacento andrà in tilt struttura inadeguata ad affrontare l'ondata di domande di pensionamento ma Boeri fa politica e tenta solo di boicottare il provvedimento il capo della vigilanza bastava attrezzarsi prima Rossi confermato ad Arezzo il primo atto del CSM di Ermini PD assolto il PM che assolse la Boschi vediamo nell'articolo del taglio basso la bambina che ha un padre ma è senza un papà io mi chiamo Joseph e l'ultimo libro di Salvana De Mari vogliamo adesso spostarci sul quotidiano l'avvenire vediamo come articolo di copertina l'ultimo l'ultimo richiamo Juncker non rispettate la parola monito del FMI il governo non cambiamo ma la manovra slitta il consiglio dei ministri di lunedì solo il decreto fiscale anche Draghi ricorda il patto di stabilità il tesoro cerca di rassicurare sul deficit vediamo il taglio medio della pagina l'ONU certifica la piaga italiana del caporalato nella foto del centro pagina le 8.000 famiglie divise al confine tra USA e Messico il caso di Maglio spinge all'Italia statale ferrovie dello Stato ci pensa Mattria frena vogliamo adesso spostarci sulla prima pagina del secolo d'Italia forti solo contro l'Italia F per il fondo monetario l'Italia deve rispettare le regole dell'Unione Europea con la sua legge di bilancio del 2019 e costruire un buffer di liquidità per attutire la prossima crisi economica nel taglio basso vediamo all'Italia torna Stato torna in Italia sarà la Gnucco con ferrovie Minniti contro Zingaretti sarà vera sfida dentro il PD caso Cucchi Crosetto nessuno sia più toccato il sole 24 ore il quotidiano nazionale economico tiro incrociato sulla manovra Banca Centrale Europea il patto va rispettato poi si parla di telecomunicazioni in vendita 5.000 torri di Wind e 3 poi vediamo pace fiscale nel articolo di spalla del taglio basso stralcio per 3 milioni di multe di Mon sui mercati situazione esplosiva adesso abbiamo concluso le prime pagine dei quotidiani nazionali passiamo alle prime pagine dei quotidiani nazionali però dei quotidiani sportivi cominciamo con la gazzetta dello sport articolo di apertura Inter fai come noi che è successo il festival di Trento vediamo nel taglio alto vediamo ecco il calcio che verrà Ceferin il numero uno delle UEFA terza coppa Superlega no Cairo impegno europei dice tuteliamo i campionati Agnelli armonizzare i calendari Ronaldo super eroe vogliamo vedere la prima pagina del quotidiano il corriere dello sport Sarri il mio calcio il mio calcio incontro a Londra tra l'allenatore del Chelsea e il nostro inviato poi sempre riguardo a Cristiano Ronaldo CR7 caccia e testimoni l'avvocato di Ronaldo alla ricerca delle prove che potrebbero smontare l'impianto accusatorio dopo la presunta violenza la ragazza avrebbe trascorso alcune ore in compagnia del giocatore nell'articolo di spalla del taglio basso Bonucci a muso duro bisogna rifondare il Venezia lo sappiamo ha preso come allenatore Zenga dice torna l'uomo ragno vogliamo adesso concludere con la prima pagina del quotidiano nazionale del tutto sport articolo sportivo con l'articolo di apertura clamoroso boom su Ronaldo Gianluigi Cimino a Didi Giaimai sponsor di CR7 stiamo trasferendo i prodotti con il suo nome ci rivolgiamo soprattutto alle donne se avessimo avuto dubbi non ci saremmo schierati con lui caccia all'ancere del caso Magliorca Agnelli Cristiano è il supereroe dei bimbi nell'articolo di spalla vediamo Cairo annuncia il toro 2 Rosso Milan 126 milioni anticipazioni sul bilancio con i cinesi passivo record decisiva la ricapitazione di Elliot vogliamo concludere con l'articolo del taglio basso poi passiamo a un break pubblicitario mi volevano morto Emanuele Callagliò salvo grazie al Parma adesso vogliamo fare un break pubblicitario però prima vogliamo vedere le previsioni medio di quest'oggi e poi passiamo alla seconda parte di mattino 6 con la lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali ben ritrovati a questa seconda parte di mattino 6 vogliamo adesso passare alla lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali adesso vogliamo subito iniziare con il centro di Pescara vediamo si parla di dell'Abruzzo l'Abruzzo riscopre i 51 luoghi da faula da Rocca Calascio alle sorgenti del Pescara ecco tutti i posti e a Chieti si visita il cimitero monumentale infatti oggi con il centro proprio a riguardo il centro regala un libro gratis ai nostri lettori la guida per osservare gli animali in Abruzzo vogliamo cambiare pagina sempre sull'Abruzzo io non rischio i volontari in piazza oggi e domani la manifestazione della protezione civile in 16 città d'Abruzzo qui vediamo il beato Nunzio di Pesco non esco diventa santo domani cerimonia in piazza San Pietro con Papa Francesco 300 pellegrini della Val Pescara partiranno stanotte scusate sempre a riguardo e Pesco disponibili tre parcheggi per auto e pullman vogliamo adesso spostarci sempre a riguardo è orfano di padre a tre anni dice fu abbandonato dalla madre sempre riguardo alla cerimonia che si terrà e vogliamo adesso passare all'economia abruzzese Toto appalto da 100 milioni in Polonia l'impresa abruzzese punta sull'est vince la gara per realizzare un tratto di superstrada di 13 km con 20 ponti ed è in corsa anche per per l'autostrada premiati a Tolle e San Nicolò vino e oli abruzzesi protagonisti alla casa del gusto di Conad nel taglio basso vediamo fondi all'agricoltura c'è il bando per le filiere corte la regione abruzzo mette a disposizione 4 milioni per le imprese le nomine in Abruzzo Arta Gian Sante nuovo direttore la biologa esperta e risorse idriche arriva dallo zoo profilattico sempre in Abruzzo fondi masterplan a rischio l'ultimatum lolli al governo bloccate lo scippo la regione la risposta della regione 5 stelle il presidente vicario chiede un atto concreto il banco di prova sono due emendamenti e qui a riguardo abbiamo un servizio che è stato preparato per noi dalla nostra redazione del Tg6 è un fiume in piena il presidente vicario della regione abruzzo Giovanni Lolli che è intervenuto sui soldi del masterplan per l'Abruzzo sono nostri e non si toccano dice perentorio Lolli sono vincolati giuridicamente intoccabili per Lolli c'è un chiaro errore ed evidente da parte del governo del ministero delle infrastrutture che ritiene invece che l'Abruzzo abbia dato il suo ok per usare i fondi del masterplan per anticipare le risorse che servono per la messa in sicurezza dell'autostrada a 24 e a 25 bene per anticipare quell'opera necessaria di un'opera dello Stato si usano i soldi della regione ora si possono dire un milione e mezzo di parole ma fin quando non si risponde a questa domanda perché vogliono usare i soldi della regione per anticipare adesso ieri hanno detto qualcuno ha detto dice ma c'è una delibera dell'aggiunta regionale che lo chiedeva ora siccome la consigliera Marcozzi che io stimo moltissimo per carità che tra l'altro si presenta e forse potrebbe anche diventare la futura presidente di questa regione e dovrà quindi scrivere le delibere intanto dovrebbe imparare però a leggerle le delibere lì c'è scritto molto chiaramente che noi pur di fare di anticipare questa opera perché la vogliamo anticipare già che ci viaggiamo su questa strada ci dichiariamo disponibili a mettere a disposizione anche i fondi destinati all'Abruzzo dell'FSC non trasferito se tu mi ometti questa semplice paroletta mi ometti tutto cioè noi abbiamo già trasferiti i 730 milioni dei 750 milioni del Masterplan e quelli non debbono essere toccati perché sono i nostri e perché li abbiamo già in grandissima parte convenzionati cioè firmate le convenzioni ci sono 11 miliardi e mezzo di soldi del FSC nazionale una parte dei quali sono anche destinati all'Abruzzo prendi quelli che sono i tuoi perché devi ne a prendere i miei vogliamo adesso cambiare argomento sempre nelle pagine interne si parla dell'Ape che compie 70 anni il motocaro simbolo di origini abruzzesi era una costola della Vespa di Coradino da Scagno il leggendario ingegnere inventore di Popoli ci spostiamo alla cronaca della provincia di Pescara l'inchiesta sul depuratore di Vincenzo mare inquinato non ho colpe interrogato dal PM l'imprenditore indacato i sequestri e la burocrazia mi hanno impedito di realizzare i lavori necessari nel taglio basso negoziante assolto non importò anabolizzanti Enrico Cassano era accusato di avere venduto in città sostanze dopanti provenienti dalla Spagna usura chiesto il processo per un direttore di banca sotto accusa del direttore della filiale della nuova cassa di risparmio di Chieti la vittima è un imprenditore commerciale che aveva ottenuto mutuo l'open day della prevenzione oggi al centro Donorione visite mediche e terapie gratis sempre su Pescara lo scontro sul progetto Ari e di risulta il consiglio va deserto troppa assenza in maggioranza Pagnanelli sotto accusa per aver fatto saltare l'intesa col Movimento 5 Stelle slitta il voto sulla delibera vediamo sempre nel taglio basso questa volta si parla di commercio negozianti venite in comune a protestare rivolta contro il progetto esposto di Delfino i colli sono i colli danno l'addio a Sabatino Faieta pasticcere storico aveva cominciato da ragazzino dal 1990 era in via di sotto i figli hanno seguito le sue orme oggi alle 15 i funerali a Sant'Andrea oggi l'ultimo saluto a Loredana Danni sempre riguardo a Pescara paura per l'acido evacuato un palazzo a piazza San Francesco cittadini allarmati interventi di vigili 118 e polizia anziana portata in ospedale per precauzione nel taglio basso domani dice apertura straordinaria mostra all'archivio di Stato sulla prima guerra mondiale oggi a Colle Orlando il comune omaggia tre pescaresi fucilati dai tedeschi oggi e domani corsi per aspiranti animatori al centro d'Abruzzo e a piazza Salotto dice prevenzione rischi oggi se ne parla nella lingua dei segni su Rigopiano vediamo via Rigopiano si trova a Pescara vogliamo le telecamere i cittadini le chiedono i residenti delle case popolari chiedono di controllare in via vai il via vai della zona vanno scoraggiati i malintenzionati e combattuto lo spaccio di droga provinciali accordo su Zaffiri candidato il centrodestra si ricompatta pronti a vincere le comunali nel taglio basso oggi il convegno di regione confabitare e confindustria rigenerazione urbana partecipa partecipata all'aurum Cassano occorre far orire i canoni concordati sempre su Pescara Autepi festa per i 60 anni la concessionaria di Pescara due palazzi al posto dell'ex fater in atto la demolizione dell'edificio di Via Italica per realizzare nuovi appartamenti vediamo nel taglio a basso Pescara Sposi con Anna Falchi via oggi la non edizione della fiera al porto turistico domani c'è la show guerra adesso spostarci alla cronaca di Monte Silvano lo smog in città una sola centralina l'inquinamento è privo di controlli Cozzi le chiedemmo alla regione nel 2016 e ci dissero no ma non è ipotizzabile vietare tir sulla circonvalazione il direttore Arta parametri fuori norma già dal 2015 spostiamo sempre zona di Monte Silvano questa volta anche della città Sant'Angelo della zona Espoltore vediamo nel taglio alto Monte Silvano il comitato cultura e territorio giallo in biblioteca con Marco Battista negozi chiusi per l'addio a Digirolamo oggi funerali di Lupo Rosso a Pianella tartaruche sbranate nella gabbia dei pitbull Monte Silvano l'episodio denunciato da Gianluca Milillo che fa parte della Onnus Nuove Saline dilagnate dopo che qualcuno le ha lanciate nel reggitto del Dog Village Monte Silvano verso le elezioni prove di coalizione PD articolo 1 a caccia di candidato azione politica la stella Maris poteva ospitare le belle arti di Roma a città Sant'Angelo presentata la stagione concertistica music e festival apre l'orchestra sinfonica abruzzese lo stiamo nella cronaca di zona di Francavilla da Uto Ugi a Anderson sarà una stagione di talenti a Palazzo Sirena tanti nomi per tutti i gusti nel programma a cura di Davide Cavuti teatro gabarette musica e progetti speciali apre il 24 novembre Edoardo Leo infatti nel ricco programma c'è spazio dice anche per il festival Cicogni e per quello della scienza premio Mumi a Cellino il Don Savastano di Gomorra domani dice viene fatta la cerimonia dedicata alla fondazione ci spostiamo nella zona di Penne Valtavo Popoli Val Pescara operatori sanitari corsi a penne la Fialz accordi dopo tanti anni ma resta alto il malcontento per il declassamento del San Massimo a ospedale di aria disagiata il sindaco Semproni scriva a Lolli presidente vicario della regione va modificato il decreto e Castricone qui nell'articolo di spalla replica a Sostiri si vanta di meriti che non ha nel taglio medio Marino Mazzocca Parco della Magliella via libero al nuovo piano uno strumento indispensabile sono cambiate le condizioni ecologiche del territorio evade e guida senza patente Roma arrestata Val Pescara Ferrari in piazza parte oggi da Popoli il tour in rosso vediamo ci spostiamo adesso nella cronaca della provincia di Chieti niente sesso 96 anni ottiene il divorzio lei di 41 anni più giovane lo aveva sposato per interesse matrimonio mai consumato l'anziano ottiene lo scioglimento sempre riguardo all'articolo all'avvenimento della cronaca della rapina a Lanciano rapina nella villa dei Martelli le indagini continuano su telefoni e tracce isolate addio a sartone anima della spalla è morto Enrico Di Battista per mezzo secolo dirigente del club biancazzurro raccolte di firme invece contro il banco nelle tabaccherie droga a Dorsogna trovato morto no droga la tragedia a Dorsogna trovato morto nella camera da letto Luigi Marcello 41 anni operaio forse è caduto dopo un malore aveva problemi di droga il magistrato ordina l'autopsia il sindaco era con noi con la borsa lavoro commento che ha fatto il sindaco San Giovanni Chietino lancio di fumogini durante la partita a processo 10 ultra Torre Vecchia Teatina festa in famiglia finisce rista dopo la cena al ristorante stiamo nella zona di Vasto controlli gratuiti dell'utito a Chieti Lanciano e Vasto Chieti invece sospensione idrica per lavori San Martino e lo Scalo restano senza acqua la zona di San Salvo cocaina per i VIP i nomi negli appunti il titolare del locale non risponde al giudice ma lascia in carcere e va ai domiciliari le indagini portano alla droga dell'est polizia stradale controlli ai camion commerci pericolose 10.000 euro di multe scacco alla gang delle auto rubate Ascoli emesse 15 misure cautelari anche per l'avvertura rubata a Castaldi del Movimento 5 Stelle a Chiedi ecco le cellule che rigenerano il cuore gruppo di lavoro dell'università pubblica uno studio sulle staminali del liquido ammniotico stiamo andando avanti postiamo questa volta nella provincia di Teramo la denuncia del lance l'associazione nazionale dei costruttori lavori in urgenza non pagati 11 milioni è la somma non ancora versata alle imprese dili per gli interventi realizzati durante l'emergenza per terremoto in neve e anche qui a riguardo abbiamo un servizio che è stato fatto per noi dalla nostra redazione del Tg6 prego è un bilancio pieno di ombre quello che fa l'ance l'associazione costruttore di lì di Teramo sono passati quasi due anni dal sisma e il ritardo nei pagamenti delle opere pubbliche stanno mettendo a dura prova le imprese che rischiano di fallire il presidente Raffaele Fallone punta il dito soprattutto sulle opere appaltate dalla provincia di Teramo dopo il terremoto e la nevicata di gennaio 2017 su 20 milioni di euro affidati dall'ente nel 2017 mancano all'appello 11 milioni di euro ritardi burocratici a causa di rendicontazioni che la provincia deve inviare alla protezione civile e le cui modalità vengono cambiate in continuazione il problema è che moltissime imprese rischiano proprio il fallimento rischiano di fallire perché la provincia devo dire è stata brava ad appaltare 21 milioni di euro di lavori però poi non è stata altrettanto brava quanto meno ci risulta a rendicontare perché noi ancora non riusciamo a capire le cause da dove derivano per questo ritardo dei pagamenti perché non riusciamo a capire perché non ce lo dicono se dipende dal Cor se dipende dalla provincia o se non ci sono i soldi fatto sta che noi più della metà dei soldi ancora li dobbiamo incassare sono circa 10 milioni di euro sono tantissimi a distanza di un anno e mezzo quasi due le nostre imprese non riescono ancora a prendere soldi passaggio accorato del presidente del lancio di Teramo anche sui ritardi della ricostruzione privata 2016 per Falone c'è bisogno di nuovi stimoli e di molte più risorse organizzative per ripartire la nostra regione è l'unica regione che ha il problema della sovrapposizione del sisma 2009 e 2016 non ci sono ordinati che disciplinano in maniera chiara e netta come gestire questa sovrapposizione mancanza di personale all'ufficio speciale di Teramo ci sono 29 persone assunte con contratti ballerini con contratti disomogenei e poi sulla ricostruzione un ultimo appello dell'associazione costruttori edili di Teramo a tutte le forze politiche senza una scossa del sistema molti paesi terremotati scompariranno vediamo adesso la zona di Torricella rischia di morire in strada salvata l'intervento di una dottoressa su una 91enne che è stata accasciata per arresto cardiaco sempre a Teramo la Teramo mare terminerà a Cologna adesso cibo e social blogger per Teramana sulla set giuliano giuliano centrostorico multa raffica vigili scatenati oggi a Milano dipinge il cane eroe del terremoto artista moscianese dona il quadro dell'animale morto ai vigili del fuoco aria marina cerrano scordella chiede di rivedere i vincoli per il comune di Silvi per primo cittadino dice servono regole meno restrittive il presidente le modifiche vanno chieste al ministero a Pineto all'unifesta per le lavagne interattive l'Aquila teatro in concerto di Capodanno per il 2020 la promessa dell'assessore di Cosmo durante la visita del sottosegretario vacca più personale e soldi per la cultura il malaffare invece ha bloccato la ripartenza intervista del presidente della commissione affari costituzionali della camera Brescia oggi in città vogliamo sempre l'Aquila mamma cacciata ora indaga l'Ateneo una mamma studentessa dice uno dei docenti a nome di molti prende le distanze dalla collega si è scusata ma solo dopo l'intervento delle autorità è una studentessa che andava a lezione con il bambino vogliamo adesso spostarci la zona di Avezzano 600 bambini in cerca di un pediatra è il caos di un pensionamento di una dottoressa parametri da rivedere dice intervenga la ASL morì folgorato risarcimento di 600 mila euro il tribunale ordina di pagare i danni a moglie e figlia dell'operaio che lavorava in nero vediamo adesso spostarci alla pagina interna del quotidiano della regione Abruzzo Lolli il governo usi i soldi e D'Alfonso garantiscono la restituzione Pescara aria di risulta strada in salita per il progetto nube tossiche invece all'arma a piazza San Francesco anziana inquilina intossicata vigili del fuoco dicono no a spoltore e via a pantini la sede ideale qui abbiamo il comandante dei vigili Vincenzo Palano che boccia per motivi strategici la proposta di Lorito vogliamo vedere il mare adesso a Pescara che uccide nove le vittime anche la consueta dose di annegamento e malori nel bilancio stagionale dice della Guardia Costiera in calo gli incidenti d'acqua dice non abbiamo riscontrato comportamenti irresponsabili all'Aquila il Gran Sasso pubblicato il bando per la gestione dei rifugi in quota il centro turistico ha indetto l'avviso per quelli di Montecristo e Fontanari teatro all'Aquila primo lotto finito ad aprile il segretario Bacca ha visitato il cantiere del restauro a novembre la rimozione dei ponteggi poi la conclusione scioperi e storop energetico la zona di Avezzano Abruzzo isolato treni ancora fermi per il periodico guasto alla linea elettrica pendolari bloccati già a Roma e auto privati presi d'assalto chiedi scopre il tradimento al ristorante botta alla festa di compleanno moglie a una storia clandestina col consuocero e scoppia la zuffa sono due di intervenire i carabinieri e la polizia per sedare la lite vogliamo spostarci alla zona di Teramo pagamenti in grave ritardo la ricostruzione al palo agguato in discoteca chieste condanne per 12 anni zona di Giulianova Cameli boccia il direttore della patrimonio la delibera di approvazione dell'incarico annullata per un emendamento votato dal consiglio comunale taglio basso banda delle slot e machine in azione svaliggiata anche la pizzeria Giulia vogliamo adesso passare alle pagine interne del quotidiano la città della provincia di Teramo la mobilitazione degli abruzzesi non si ferma nuovo ultimatum di lolli se il governo non rimedierà breve all'errore siamo pronti a scendere in campo poi il lanciano il matrimonio annullato di un 96enne una 55enne le imprese teramane rischiano di fallire allarme del lancio sui ritardi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni alle società edili abbiamo visto anche un servizio a riguardo della nostra redazione del TG6 sempre a Teramo Tari botta e risposta tra Tim ed Alberto l'azienda titolare che è il comune a decidere le percentuali da ritoccare noi forniamo solo il servizio il sindaco la società conferma che è stata una scelta del commissario ma i costi restano troppo elevati collaborazione tra comune e la camera di commercio per rilanciare il commercio vediamo andare avanti questa volta sempre su terra ma qua il sindaco scrive al procuratore lettera di ringraziamento di Dalberto che raccoglie l'appello di guerriero pronti a fare la parte ripartono i lavori della scuola antisismica buone notizie per la struttura del quartiere San Benedetto che sarà pronta per il prossimo anno scolastico la provincia la mia provincia dice sarà la casa dei sindaci la lettera aperta di Diego di Bonaventura ai grandi elettori uniamo le forze superando gli steccati politici pestaggio in spiaggia per la droga chiesti 13 anni in tre accusati di estorsione e lezioni nei confronti dei giovani ai quali avevano venduto la cocaina paraplegico zona di Tortoreto paraplegico dopo la caduta in azienda stava eseguendo dei lavori in nero in un opificio quando è precipitato da una scala articolo 1 passa al contrattacco dura replica al PD sono loro che hanno cercato di far cadere la giunta adesso le aree ambiente zona di Silvi valore aggiunto per le comunità si è svolto ieri il convegno nazionale organizzato sull'impatto socio-economico del capitale naturale le provinciali dividono casa civica Marconi si schiera con Di Bonaventura Nunez in difficoltà non si espone vogliamo adesso passare alle pagine sportive vediamo la serie B Pilon in redazione io pescare la vetta tutto è nato a tavola ma non parlatimi di A il tecnico si racconta a 360 gradi felice del primo posto però la strada è ancora lunga vi racconto il rituale della cena del mercoledì vediamo sempre di Pilon poi si parla della serie C del Teramo in attacco dubbi in attacco dubbio Piccioni di Rienzo dietro gioca Altobelli ci spostiamo sullo sport la rinascita di Campagnaro questo Pescara mix perfetto dice di giovani ed esperti corriamo tanto e fatichiamo poco vediamo il Teramo invece gara chiave per il futuro a Rimini ci spostiamo sulla cronaca eh sì sullo sport della provincia di Teramo del quotidiano la città Teramo serve la scossa del sabato più dura Rimini gara delicata Zichella attacca la società mi ha chiesto il 433 ma oggi deve vincere il basket Campli nasce il progetto terra del basket unioni di intenti tra la società a Farnese la nuova Campli per lo sviluppo del settore giovanile come ultima notizia sempre Teramo a spicchi ottimo esordio ma Gallerini guarda già avanti ciò nel concludere con questa notizia sportiva del basket io vi ringrazio per la vostra attenzione nel seguirci in questa edizione di Mattino 6 le nostre diciamo i nostri programmi continuano ma soprattutto abbiamo il TG6 alle ore 14 poi abbiamo la nuova edizione sempre del TG6 alle ore 19 e alle ore 23 con Mattino 6 invece ci rivediamo sempre la mattina alle ore 8 ma lunedì 15 ottobre io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona giornata e vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ringrazio